di nuovo qui in una nuova avventura su Freelance. Grazie a tutti. 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 Posso fare... Grazie a tutti. ... 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 inventario prodotto maiuscolo che 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 mi se mi sa di sbagliato tu lo vedi con lettere minuscole per inventare allora non è sicuro dottor maiuscolo sì ora vediamo perché te li vedo ok era tutto minuscolo il tuo inveggio e nemesi c'è la n maiuscola papa drago c'è la prima uscola ma mi sa che solo se hai la lettera iniziale così come i numeri iniziali sti cazzi non bisogna vedere devo farti il salmon è arrivato il salmon ora ti faccio invita e state trasportando salute che c'hai anche ammala allora aspetta ho letto di un no la ci sta mettendo sta caricando penso sì però avevo letto anche di un parco quando si faceva ma non ci sei ma non vedi niente stai saltando per caso no 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 non ci sei allora ho visto dei suggerimenti no aspetta 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 vabbè il menu lo vedi no non vedi un cacchio allora va bene provano uscire di entrare e palle da me lo sono riuscita ad evocare subito non so dove stava ma mi pare strano forse la massima le c'erano le corse stavo e lo dice sempre ho fatto pure la segnalazione del bug lo fa sempre su steam spero che essendo amici adesso ti fanno venire nel server dove sono gli amici anche se io papa draco l'ho beccato senza averlo tra gli amici senza tu che botte di più ora l'hanno beccato te ok qua non c'è nessuno che bello posso stare nella zona iniziale che non c'è nessuno che va al casino la cosa bella che non c'è su zenith è che praticamente se vedi dentro social server vedi chi c'è nel server c'è 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 da dire però che i server poi cambiano da pianeta a pianeta eccolo l'armatura quella io io si la mantella tutto ti sento due volte ci sentiamo che ne lasciate chiudiamo la chiamata facciamo aggetto del gioco per un bordello aspetta perché ora c'è da ricordarmi ok basta che la termina d'acqua chiusa si si che bella barbetta devo imparare ancora come si fa prendere le cose dall'inventario allora devi praticamente andare nell'inventario selezionarlo quando fai usa quando fai usa te la fa mettere dentro il menu rapido si al menu rapido quello che apri con cazzo ah si y finestra scusa x e poi con la mano con cui vuoi prendere le cose lo prendi io ciò uno spazio d'acqua e una scala laser qua che mi è mandato questo vista credo è arrivato a mo ma va bene dopo facciamo parti come facciamo a vedere guarda basta che la molla il grip l'avevo mollata ma restava lì eh si a volte non è reattivo stessa cosa ai menu quando non vedi il pallino finale non stai cliccando allora fammi un po' di vedere l'inventario c'è entrato nel party sì c'è nel party allora possiamo fare la chat vocale del party funziona in maniera diversa rispetto a zenith praticamente uno ti sembra peggio sì perché quando vai da un piano dall'altro poi si reset e quando vai dentro party c'è il tasto group voice chat che quando ci clicchi mandi una richiesta a tutti quanti ora lo faccio io non devo fare più niente tu devi accettare infatti no non mi senti ci sei? l'ho vista passare però l'hai accettata adesso prova ah si? l'ho accettata senza volerlo allora ok adesso pure se siamo lontani dovremmo sentirci alla grande mi senti giusto? penso di sì ok si mi hai fatto spaventare la faccuna ok io non capisco un cazzo di sto gioco ancora è tutto assolutamente normale come quello che fa i massaggi e scorreggia ma l'hai fatto tu eh? infatti è normale allora ok allora hai preso qualche questo in giro? no io quello che ho preso l'ho finita cioè non ho una da fare allora non è che... è riparsa la palla verde che sta andando di qua non dice di venire qui ok ok probabilmente è quella che sì possiamo entrarci qua dentro tranquillo siamo ancora nello stesso pianeta dice... no che devo fare? entra nel portale dice che devo fare level 8 devo fare level 8 non posso farlo e allora no facciamo level 8 possibile che non devi averne altre queste eh sicuramente qui che c'è? allora ce n'è una qua ma ce ne sono anche nei mezzi di pianetini controlla prima quelle che hai già preso nel menu lui ok lui ti dà lì ok allora non è preso lui non ce n'ha lui non ce n'ha fa bucciare la freccia azzurra sulla testa che si nota ma che cazzo si ma qui c'è qualcosa che... eh accetta la quest track down on tiff by speaking to column the helios space station ok non lo puoi fare ancora perchè devi prendere... eh no? magari te l'accetta ma non lo puoi fare ancora perchè non hai mai la possibilità di andare nello spazio ah perchè devi fare il livello 8 comanda se a un ginocchio eh? mi sono seduto mi sono seduto mi sono seduto e sono in piedi a metà strada ma perchè si è abbastanza in piedi? abbastanza in piedi ma non lo so questo si muove è un problema nuovo ah sai cos'è? il teleport se vai con la levetta di sotto la levetta destra ti fai il teleport perchè io non lo voglio usare questo eh lo so non si può disabilitare lo volevo disabilitare io perchè è fastidioso non so se c'è uno uguale a te eh lo so c'è c'è il boss che è caca e qui come niente allora scusa io voglio mettermi le pistole qui dietro come ce l'avevo all'inizio una c'è l'altra no no devi prendere meglio la cosa la spalla vedi se sei seduto bene se sei abbastanza in alto ah sai cos'è pure non è che ce l'avevi a volte capita che quando prendi una cavalcatura o qualcosa con la mano destra o con la sinistra in realtà poi la spada la devi riselezionare dal menu rapido la spada o la pistola ho capito perchè rimane salvata la creatura o il veicolo ok se io mi muovo con questo quindi a volte con le piccole il casino per ruotare sei come ho capito ho capito ho capito ma secondo me ah sì in secondo di dove indichi verso sotto o verso si se c'è un po' di questo o di drift o motion o motion o motion ah vai ci devo un show è passata alla blu attenzione alla blu non si vede ah beh c'è sul pozzo la freccetta aiuto c'è sul polso sinistro la freccetta o che carini ti dice pure che cacchio devi fare eccolo c'è un libro ho sbagliato ho provato qualcuno che non eri tu ma sto tornandola giù tanto sto tornando da motion ok una cosa più bella l'hai imparata qua gira dritto faccio vedere che sto completando e devo aspettare dove sei ah mi è giusto pure la grafica io perché non è questa la grafica è questa aumenta 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 diciamo 1.8 guardami 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 si vede si vede no cazzo di fortnite come si ti fa cazzo si si cazzo che cazzo hai rotto il gioco può capitare, mi sa che si riappia perché c'è un culo sulla testa? perché ci si potrebbe trasportare tutti qua comunque lo puoi fare anche tu tranquillamente basta che salti e apri le mani come se volessi accogliere qualche divinità a te non posso saltare, non salta più? le mani più larghe e per il palmi verso l'alto c'è il mobile sopra ah ok ah no, devo tenere premuto il salto per andare avanti allora, devi tenere ferme le mani verso l'alto se vuoi andare verso l'alto i palmi ti muovi con la levetta sinistra con quella a destra poi non so che rotazione c'hai tu io che uso la che vorrebbe l'asca a scatti ma così non funziona muoio male non funziona quando sono morto tranquillo torni qua praticamente la snap non funziona mentre stai facendo gliding non so per quale cazzo infatti stavo vomitando male si infatti o ti giri sulla sedia girevole oppure smetti di fare gliding e mentre sei in caduta libera ti giri e poi riapri le mani ovviamente puoi andare verso l'alto finché hai stamina che è quella cosa gialla che hai sul polso ok devo fare missione devo fare missione con un freccio gialla mi dice di andare di qua e andiamo cos'è sta cosa? what you can do sono le spiegazioni di cose che vuoi fare vuoi volare nello spazio puoi gareggiare io voglio un dinosauro quanto costa il dinosauro? aspetta puoi vedere nello store voglio questo cremi y 600 orb quanto sono? questo che i get orbs sono 500 orb sono 5 euro 1000 orb sono 10 euro dollari però non lo so non c'ho mai cliccato se questo gioco andasse ce li comprerai anche oh pokota c'è un pokota pokota e il vento le magie allora si però non ne conviene che te li compri anche perché ci prendi un attimo la mano con le magie poi non so se hai soldi ma no non c'è un cazzo soprattutto cosa cavolo è successa alla tua mano? perché hai una mano così storta? è brutta è storta vediamo non è mai una storta perché è squagliata c'ho l'armatura che sembra della plastica squagliata addosso a me sono un po' cagata lo so si è veramente brutta si si non lo so se non fosse buona ma che c'è la vita sto morando no no aspetta si sveglia l'ognomo no vai a sentire che vuole ok io sono nel portale qua a fianco a picchiare cose sì 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 La cazza è il quick launch c'ho Mi sposto davanti e dietro In queste cose mi sentono parlare si svegliano, si ma se mi sentono parlare si svegliano e ora devo andare lì, via, niente è stato bello, è stato 1, 2, 6 sono dentro un portale, aspetta che arrivo, ok, sono alla zona iniziale ci riproviamo? è sempre più difficile ci riproveremo, ci riproviamo, speriamo che vada un po' meglio questa cosa, è veramente fastidioso non lo so, ho molti dubbi perché sono problemi difficili da risolvere secondo me, però si sa mai l'idea è carina però, si, l'idea è molto carina anche perché hai visto il video c'è una città sana diversa, ci sono altri tre mondi che devo esplorare e altri che ne devono mettere chissà, si però se è così, non lo so, ha fatto schifo pure a Luca che l'ho visto ieri sei ho sentito io ieri ciao, ciao, buonanotte 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 non c'è più party buonanotte 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 a buonanotte buonanotte and a new location loading the space welcome to the beautiful galaxy and observe the cosmos here you can visit a plethora of space stations and stellar areas you can also enter any planet by flying into it we hope you enjoy the view reach level 20 and go to Ayanna oh, I'll see you can see you I'll see you I'm sorry it's over Allora, mi stendo l'onze e premo questo tasto. E' una specie di warp. Qua? No. Adesso, mettiamo un autopilot. Nessun autopilot. Non c'è l'autopilot, il cacchio di posto. Andiamo bene, bene. Non c'è l'autopilot. Allora, non c'è l'autopilot. Allora, non c'è l'autopilot. Ok. Eccoci qua. Altaria Hub. Sì, ho capito da parlare con quello. In realtà qua ci sono stato perché ho preso questa bellissima bacchetta. che vorrei poter tenere meglio con una bacchetta. Grazie a tutti. Allora, non c'è l'autopilot. No c'è l'autopilot. No c'è l'autopilot. Ah, è un sacco. Eccoci qua. Perché hai cambiato voce? Parlare con Golden e con Cibill, come lo saprà più che io. E' stato preparato andare al loro. Grazie a tutti i nostri spettatori, io sono sempre conosciuto a dabble in grand horse racers. Un rider di mine ha dropato, quindi io ho bisogno di step in. Get yourself a horse from a stable nearby o purchase one from a vendita o store, equip it into your fast menu, and return. Tutto là si fa, ok, io andavo andando un attimo al vendo e vedo se posso mollargli qualcosa, però prima vedo che devo mollargli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no scurato ok vedere questo che avevo non è questo 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 vi tolvi portare il snow e ben gimelo ecce non non ma noi ... ... ... ... ... ... ... ... per tutela no no, c'è il baule, vabbè posso mollare un po' di oggettini elementari uno, due un attimo se vi sto mollando col paero compass point qui sto ok, qua ne ho due un mollo qua si non essere due, ma se chiudo e riapro dovrebbero esserci tre pezzi, giusto? ok, non vedo niente ok, ok, ok caso da un mondo all'altro mi ha cambiato le opzioni ovviamente si hm un drago ok 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 se non posso fare questa luce verrebbe molto bella ok hi welcome to kibble we have been expecting a grain shipment and it's not arrived yet it is a mystery to us but we should have some left over from the last harvest check the houses and uh we need you to go and deliver this package to trench over in emkin they have been cut off due to the dangerous roads ok perchè c'è sta rumore di acqua ovunque oh la luce è cambiata questo ah lo che preferisco è questo il cuore non c'è ovviamente ah voledetti non avete l'uso questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa palla è una palla. Non vanno a dormire qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. 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 Miram mai questa gara. mi sembra bella come me out the date ahhh ooo come and never oh crap it's over the world it's over the world it's over the world it's over the world gold of trophies wow che culo che cazzo di animali c'hanno questi quelli con numero quegli altri sanno citosi ecco aneh per ora Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Grazie a tutti. un battimento. a tutti. Yeah. Ok. That's right. That's right. That's right. a tutti. Ok. Ok. a tutti. Yeah. Ok. 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 e beh ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Talgore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti